In diretta come ogni mercoledì anche in questo 30 settembre 2020, 30 settembre ovviamente la numerologia non è una cosa che gira in vano, oggi tutto gira attorno al 3, è il 30 quindi 3 0, è novembre quindi 3 per 3 e oggi parliamo di 3 componenti di una stessa famiglia, quella Apple e questo ovviamente è Yoetech, sigla! Il primo evento Apple di due settembre Il 15 di ottobre abbiamo iniziato a vedere quelle che sono le novità per l'autunno per Apple e in realtà si ipotizza che in teoria magari forse tra un'ora chissà, magari quando ascolterete il podcast in podcast appunto vi sarà svelato il mistero, Se la data dell'evento è uscita oppure no, io sto controllando e tutto tace e la cosa abbastanza interessante è che appunto l'evento si rumoreggia per il 13 di ottobre e quindi di qui a un paio di settimane saremo ancora in balia degli eventi Quindi ovviamente prepuntata, ovviamente pre-evento con Alberto, poi puntata del mercoledì e finalmente stavolta dovremmo ricevere anche qualche notizia su cosa rispetto ovviamente agli iPhone con finalmente tutti i rumor che in qualche modo si mettono a tacere Oggi però parliamo di tre famiglie, ve l'ho detto nell'introduzione del podcast per un semplicissimo motivo perché durante l'evento di settembre, durante l'evento che in qualche modo ci ha aperto poi quello che in sostanza è il sentiero che ci porterà a scoprire addirittura i primi Mac con Apple Silicon nella seconda parte di questo strano trimestre Perché in qualche modo l'iPhone è un pochino il centro dell'attenzione con da una parte ovviamente iPhone e iPad che in qualche modo fanno anche loro da sentiero con i processori E appunto parlando di processori e parlando di iPhone e iPad abbiamo visto durante l'evento per esempio quello che in sostanza è stato un ritorno se vogliamo di quello che è già stato un ipotetico primo approccio di novità Con ovviamente iPad Air 4 con l'Apple Silicon A14 a bordo, lo stesso processore che dovremmo vedere sugli iPhone e in qualche modo lì è partito in me tutto il dibattito Un dibattito che poi ovviamente è scaturito anche con la presentazione di Apple Watch, con l'Apple Watch Serie E e SE Quindi Apple Watch SE, oramai i serie, ci sono i serie, i non serie, i fuori serie, in sostanza non si può E continuando ovviamente sul ragionamento la cosa più o meno interessante è capire quali possono essere e se in realtà poi ci possono essere le varie categorie di prodotti Perché secondo me andando se vogliamo settorializzare un attimino tutta la situazione in un modo o nell'altro possiamo in qualche modo poi capire quello che potrebbe essere l'evento Perché a questo punto la cosa abbastanza palese e si capisce da una parte con gli iPad e dall'altra parte con gli iPhone È che Apple oramai ha tre categorie di prodotti, ha la categoria intermedia che è quella per tutti, ha da una parte la categoria SE e dall'altra parte ha ovviamente la categoria PRO Non vuol dire niente PRO, non vuol dire niente SE, non vuol dire niente ER Diciamo che in sostanza abbiamo un punto integrale, se vogliamo, una sorta di punto di mezzo di un percorso Da una parte ovviamente abbiamo la gamma per i PRO, quindi la gamma più completa quella con tutte le novità e dall'altra parte abbiamo la gamma entry level La cosa assurda è che Apple in un modo o nell'altro riesce in sostanza a portare avanti l'idea comune di tutto questo E secondo me nei prossimi anni, visto che adesso aprirà ovviamente questo nuovo segmento con i Mac e Apple Silicon Quindi ovviamente ci sarà da capire anche poi come giostrerà i propri chip all'interno dei Mac Perché da questo punto di vista Apple potrebbe iniziare a garantire, se vogliamo, una certa continuità di vedute in tutti gli ambiti Con iPhone, iPad e Mac Ma non solo anche Apple Watch, abbiamo visto gli Airpods Che in un modo o nell'altro andranno a categorizzarsi secondo alcune linee predefinite Che poi ovviamente porteranno una qualsiasi persona a poter scegliere in base alle proprie esigenze e al proprio target Il dispositivo perfetto E la cosa assurda è che a questo punto tutta la gamma potrebbe tranquillamente semplificarsi Perché adesso abbiamo 2500 iPhone Perché comunque attualmente abbiamo l'iPhone SE 2020 Abbiamo l'iPhone XR Abbiamo l'iPhone 11 Abbiamo l'iPhone 11 Pro E abbiamo l'iPhone 11 Pro Max Quindi abbiamo 5 modelli di iPhone Addirittura diventeranno 6 di qui a un paio di settimane Con ovviamente il 12 mini e il 12 Poi abbiamo in qualche modo 4 iPad Abbiamo l'iPad mini Abbiamo l'iPad Anzi abbiamo 5 iPad Perché comunque abbiamo 6 iPad Perché abbiamo l'iPad mini L'iPad di ottava generazione L'iPad Air E due iPad Pro No, ne abbiamo 5 E poi abbiamo il MacBook Air Abbiamo il MacBook Pro E abbiamo il MacBook Pro da 16 pollici Per quanto riguarda i computer desktop Abbiamo il Mac mini Abbiamo l'iMac Abbiamo l'iMac Pro E abbiamo il Mac Pro Dall'altra parte Quindi Apple Secondo me ha bisogno di semplificare Un pochino tutta la gamma E quindi Partiamo con La categoria Più sfigata Diciamo così Quella che in sostanza poi non è sfigata Perché Ci sto giocando un pochino Ultimamente E devo dire Che è una categoria Estremamente dignitosa Che è la categoria Cosiddetta SE Io ipotizzerei anche Dei cambi di nome Questa dovrebbe diventare La categoria SE Per tutto E quando parlo di Prodotti entry level Parlo comunque Secondo me Ad una popolazione Comunque Ad un popolo Che non ha Molta voglia Di far parte Dell'ecosistema In toto Perché comunque Apple Che ovviamente È partita con i computer Poi si è fatta conoscere Per quelli che sono Altri dispositivi Da una parte Ovviamente Il mondo di iPhone Che oramai Da Dal 2007 Ci tiene compagnia E dall'altra parte Il mercato dei tablet Che abbiamo visto Sta diventando Sempre più importante La categoria SE Secondo me Dovrebbe essere composta Semplicemente Da un paio Di prodotti Da una parte Ovviamente Abbiamo L'iPhone SE E dall'altra parte Abbiamo L'iPad SE Quello che Adesso si chiama iPad Di ottava generazione I due modelli Di dispositivi Dovrebbero essere Caratterizzati Secondo me Da poche cose Essenziali Il processore Quindi Un processore Decisamente performante Io ad esempio Avrei messo Il processore A13 Anche Sull'iPad Di ottava generazione E dall'altra parte Ovviamente L'iPhone SE Che comunque Sappiamo durare Per 3-4 anni Con Determinate Categorie Secondo me Di persone A cui è rivolto Ovviamente Da una parte Ci sono i nostalgici Ci sono tutte Quelle persone Che magari Hanno un iPhone Che non viene Più supportato Dalla Versione Corrente Di iOS Per esempio Per quanto riguarda iOS 14 Non abbiamo Avuto tagli Rispetto Ad iOS 13 Però Se Nella 2021 Cadessero Ad esempio Gli iPhone 6S Tutti quelli Che hanno Gli iPhone 6S Magari Non so Anche Gli iPhone 7 Tutte quelle persone Potrebbero tranquillamente Rifugiarsi Appunto In una categoria Quella SE Con Comunque Dei netti Riferimenti Perché da una parte Ovviamente Abbiamo Il mondo Del tasto Home Quindi comunque Un pulsante Virtuale O Reale Perché oramai È tutto virtuale Che comunque È Presente Ovviamente Abbiamo visto Il touch ID Addirittura Tornare Per cui Comunque È ancora Una tecnologia Che per quanto In realtà Stia cambiando È un qualcosa In cui Apple Crede fermamente Però Comunque Magari Ha ancora Delle lacune Perché comunque Da una parte Quindi per quanto Riguarda L'iPad Non abbiamo Ancora La laminazione Completa Non abbiamo Ancora Quella Che in sostanza È L'ultima Versione Per quanto Riguarda Il design Dall'altra parte Con iPhone Abbiamo visto L'S di quest'anno Per cui L'ultimo Processore Disponibile Sul mercato Abbiamo visto L'ottima Fotocamera Abbiamo visto Comunque Un qualcosa Che Per un prezzo Relativamente Basso Perché comunque Stiamo parlando Di un dispositivo Molto Economico Per gli standard Di Apple Anche se In realtà Secondo me Addirittura Si potrebbe Abbattere il prezzo Chissà Che magari Non so In un 2021 In un 2022 Tutto questo Poi possa Continuare A fare Un balzo Di categoria Quindi ovviamente Questi prodotti Con ad esempio I due nuovi design Per cui da una parte L'iPad Pro Che in qualche modo Va Ad avere Qualcosa Che quindi Poi lascia Altro Ad iPad Air Che quindi Lascia il design Ad iPad Pro Quindi scusate All'iPad Di non Di decima generazione E dall'altra parte Finalmente Un iPhone Con Le nuove Gesture Che oramai Nel 2020 Compiranno Quattro anni Perché parliamo Del quarto iPhone L'iPhone 12 Con Il sistema Di gesture E quindi In un modo Nell'altro Mi vanno Quasi a far Perdere coerenza Però mi piacerebbe Che Apple Riuscisse a portare Ad un prezzo Mediamente Economico Quindi 400 euro Per quanto riguarda Il mondo Dei tablet E sulle 500 euro Magari Lo smartphone Gli ultimi Ritrovati In termini Concettuali Quindi io Vengo E per Un prezzo Decisamente Inferiore Mi porto a casa Vengo in store E quindi mi porto a casa Comunque Dei dispositivi Che anche Concettualmente Poi si comportano Come i dispositivi Top di gamma Perché secondo me Questo è il punto essenziale Io posso avere Un dispositivo Di una qualsiasi gamma E io In qualche modo So Come un dispositivo Si comporta Io per esempio La sera a letto Utilizzo Un iPod Touch Utilizzo un prodotto Decisamente Economico Perché comunque L'ho Comprato In pandemia Ho fatto anche Una puntata E l'ho pagato Mi sembra Sulle 200 euro Quel dispositivo È un dispositivo Che nonostante Abbia un tasto Ma addirittura Senza traccia ID Però mentalmente Essendo abituato Ad un iPhone Pro Ad un iPad Pro Io Il centro di controllo Continuo A richiamarlo In alto A destra E quindi Mi piacerebbe E ovviamente iPod È un mondo Che esula Da queste categorie Appunto Avere lo stesso Sistema Di gestione Perché poi Si va In quella Che secondo me È la nuova Categoria In cui Apple Crede Che è La categoria Standard Possiamo chiamarla Categoria Air Possiamo chiamarla Categoria Standard Io la chiamerei Semplicemente Categoria Standard Per cui In questo Segmento Fanno parte Ovviamente Quello Che è L'iPhone base Che Quest'anno Secondo me Sarà Decisamente Interessante Quindi ovviamente Da una parte Ci sarà iPhone 12 mini Dall'altra parte iPhone 12 In versione Da 6.1 pollici Poi Ovviamente C'è il discorso Legato Ad iPad Air Quindi Ovviamente Un iPad Pro Ma non troppo E poi In tutto questo Io metterei L'iPhone Con Secondo me In abbinata Però Non Un Apple Watch Top di gamma Ma Quello che Adesso si chiama SE Perché Non ha nulla Da cui invidiare Al top di gamma Perché Il top di gamma È La versione standard Con funzioni in più E però Con Ancora presente In mercato Un dispositivo Venduto Da Apple Quindi Il serie 3 Ecco È una cosa Che io Non riesco a capire Perché Adesso Io riesco a portarmi a casa Un buon telefono A 800 euro Mi posso portare a casa Un tablet A 650 euro Mi posso portare a casa Un ottimo smartwatch A poco più di 300 euro Quindi Comunque Con Un prezzo Che non è Il prezzo esorbitante Della gamma pro Che però Soddisfa tantissime persone Io spesso parlo Con gente Che Non ha I prodotti pro Che ha Un ipad air Che ha Ad esempio Un iphone XR Se vogliamo parlare Di quello Che Apple Ha Tirato fuori Un paio d'anni fa E secondo me In tutto questo ragionamento È emblematico Il passaggio Che la stessa azienda Ha fatto lo scorso anno Con In realtà Non Un prodotto R Ma Il prodotto standard Quello Di questa Fascia L'iphone Di questa Fascia È Il prodotto Standard Quindi abbiamo Da una parte Il prodotto pro Ma Quando io Penso iPhone 6 6s 7 8 10 Non vado a pensare 11 pro Vado mediamente A pensare All'iphone 11 E quindi In tutto questo L'iphone 12 E l'iphone 12 mini Quindi Gli iphone Con Comunque Lo stesso processore Dei pro Con lo stesso Schermo Dei pro Con Ovviamente Tutto il discorso Legato Alle fotocamere Che Per il modulo principale E il modulo Ultragrandangolare Saranno uguali Per quanto riguarda Il design Sarà uguale È una cosa Che Onestamente Quando Si era diffusa La Notizia Ne parlava Persino Mark Gurman Di Questo Cambio Di design Che Ovviamente È una notizia Che oramai Ci portiamo Credo Da un paio D'anni A questa parte Tra i rumor Però La notizia Che era venuta fuori Era Che Ipoteticamente Il cambio Di design Ci sarebbe potuto essere Sui pro Io onestamente Non sarei Mai In qualche modo Mi sarei mai Aspettato L'arrivo Anche Sull'iPhone Per tutti Perché Se anche Un iPhone 12 In un modo Nell'altro Mi va A cambiare Il design Uno Dei punti Che poi Potrebbero far Propendere Una persona Mediamente Tra Il dispositivo Top E il dispositivo Base In questo Momento Mi va a perdere E quindi Io comunque Tendo a Risparmiare Dei soldi Perché comunque Io ho lo stesso Design Sia sul Pro Che sul Non Pro E quindi A tante persone Che Vogliono comunque Cambiare iPhone Io Consiglierei Veramente Di stare attenti All'iPhone 12 Da 6 pollice 1 Perché poi Io Sicuramente Vorrei Andare Sul Pro Piccolo E questo Poi Apre un altro Ragionamento Che farò Durante il Prevento Perché C'è C'è Qualcosa Di Di Secondo me Abbastanza Abbastanza Imbarazzante Negli ultimi Rumor Che Sono venuto fuori Da parte di Apple Però Comunque Le differenze Tra L'iPhone 12 Standard E l'iPhone 12 Pro Nel modello Da 6 e 1 Se la situazione Dovrebbe stare Come i rumor In qualche modo Stanno preventivando Secondo me È qualcosa Di fondamentalmente Di fondamentalmente Epico E quindi Io poi ripeto Sono innamorato Del vetro satinato E probabilmente Andrò di Pro Però È un qualcosa Di Indistinguibile Per la maggior Parla delle persone Cioè Cosa avrà in più Avrà in più Un sensore fotografico Il sensore LiDAR E 2 GB Di RAM in più Che comunque Su Un dispositivo Come l'iPhone Non fa Molto E quindi A questo punto Veramente Mi piacerebbe Vedere In questo settore Cosa da fare Apple Perché è il settore Più interessante Perché Se Nel segmento SE Non l'abbiamo inserito Qui addirittura Potremmo inserire Un computer Desktop E un computer In qualche modo Portatile Perché Comunque Il MacBook Air Che secondo me Si dovrebbe chiamare Semplicemente MacBook Magari In un formato Da 13 pollici E dall'altra parte L'iMac Quello standard Secondo me Sarebbero Magari Dei computer Che con I processori Apple Silicon Potrebbero Dire la loro Ad un prezzo Nettamente Inferiore Rispetto Per esempio Ai modelli Che ovviamente Avranno qualcosa In più Che però Per la gente Tra virgolette Comune È un qualcosa Che Mi potrebbe Addirittura Far dire Ok Questo Deve diventare Il segmento Più importante Per Apple Poi Noi Che Negli anni Abbiamo Imparato A Conoscere L'azienda A Capire Quello Che è Il segmento Pro Di cui Adesso Ovviamente Parleremo Magari È un qualcosa Che ci fa Esplodere il cervello Perché comunque Noi veniamo Dagli anni In cui L'iPhone Era uno E aveva Tutte Le Caratteristiche Migliori In realtà Adesso Anche Come Concetto Va bene C'è l'iPhone 12 Pro Ma Il nuovo iPhone È In due Famiglie Diverse Io Quando Dieci anni Fa Ho comprato Il mio Primo iPhone Sono andato In Apple Store E ho detto Il mio primo iPhone È l'iPhone 4 E non è che c'era L'iPhone 4 Mini L'iPhone 4 Pro L'iPhone 4 Max L'iPhone 4 Plus C'era Un solo iPhone Adesso Ovviamente Con Apple Che sta Ingrandendo La famiglia Deve In qualche Modo Anche venire In qualche Modo Incontro A quella Che in sostanza È Una serie Secondo me Di problematiche Molto Molto Interessanti Soprattutto Da commentare Perché comunque In tutto questo Ricordiamoci Che La Questione È Semplicemente Una Che Apple Deve Vendere Perché Apple È Un'azienda E quindi Se Apple In un modo Nell'altro Mi fa Un prodotto Che comunque Vende Perché Negli ultimi anni L'iPhone più venduto È stato Il modello Tra virgolette R Quindi da una parte iPhone XR Dall'altra parte Ovviamente iPhone 11 Comunque Mi rendo anche conto Di come alla fine Poi L'altro iPhone Sia Il one more thing Della storia Perché comunque In tutto questo Ricordiamoci Che poi Dei dispositivi Così Un dispositivo Così Può fare Quello che Vuole Può Anche poi Far oscillare Il Il pensiero Di una persona Tra i due dispositivi Perché se magari Ho bisogno di Performance Sullo Smart Ho bisogno Comunque Di qualcosa Di potente Sullo smartphone Ma poi Non ho bisogno Di molto Ad esempio Sul computer Posso andare A prendere iPhone 12 Pro Però per esempio A casa Mi posso mettere Un Mac mini O un iMac Eccetera Eccetera Perché comunque Poi Ricordiamoci Che alla fine Apple Si porta Comunque A casa I soldi Perché è vero Apple Vorrebbe Cioè Tim Cook Vorrebbe Che tutti Noi Massimizzassimo I loro Guadagni Vorrebbe Che tutti Noi In qualche Modo Probabilmente Lo farà Andando A Buttare Categorie Su categorie Solamente Nella gamma Nella gamma Più Più Alta E Tra la gamma Più Alta Solo Nei dispositivi Più Grandi Però Comunque Se Prendo Un iPad Air Magari È vero Non prendo L'iPad Pro L'iPad Pro L'iPad Pro Da 12.9 Pollici Però Apple Magari Preferisce Che Do A Se Stessa Do Ad Apple Qualcosa Tipo 650 Euro Pro Non li Do A Samsung Per Il Suo Tab S7 E Quindi In qualche Modo Deve Venire A Compromessi In Tutto Questo Poi C'è La gamma Che A tutti Noi Piace Perché È la gamma Che abbiamo Imparato A conoscere Negli Anni Perché È la gamma Che In sostanza Sta Crescendo Sempre Di Più Che È la gamma Più Costosa Diciamocelo Pro In Tante Occasioni Non Vuol dire Nulla Pro Per Quanto Riguarda Gli Airpods Vuol dire Semplicemente Cancellazione Del rumore Vuol dire Spaccia Audio Adesso Però Non Vuol dire Cuffie Professionali Perché Le cuffie Professionali Forse Se Apple Introdurrà Anche Il cavo E Includerà Magari Un Connettore Jack Quello Poi Sarà La cuffia Pro Di Apple Non Un paio Di auricolari Però Comunque Adesso Abbiamo Il segmento Top Il segmento Top Ovviamente Include Gli iPhone Pro Abbiamo Gli iPad Pro Abbiamo I MacBook Pro Abbiamo L'iMac Pro Abbiamo Il Mac Pro E poi Abbiamo Quello Di 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 Ogni In Questi Ultimi Giorni Perché Poi Sarà Una Cosa Che Ripeto Andrò A Approfondire Tra Un paio Di Settimane La Possibilità Che Apple Introduca Un display Migliore Fotocamere Migliori Sul Prossimo iPhone 12 Pro Max È un Qualcosa Che Onestamente Non mi Piace Così Come Adesso Che Si parla Di Questo Ipotetico iPad Pro Con il display Mini LED Con il Processore A14X Con il 5G Tutto Questo Solamente Nella Versione Grande Dell'iPad Per cui Anche lì Poi In un Modo Nell'altro Potremmo Addirittura Avere Due Classificazioni Ma Come Già Adesso Per esempio Abbiamo Vissuto Sui Portatili Perché Nel 2019 Non è Uccito Un MacBook Pro Da 14 Pollici È uscito Solamente MacBook Pro Da 16 Pollici Con Il 14 Rimandato Addirittura Di Due Anni Forse A quanto Dicono I Rumors Vedremo Qualcosa Nella Prossima WWDC Quindi Si parla Addirittura Di Giugno Del 2021 Vuol dire Che Oggi A Settembre Del 2020 Abbiamo Ancora Davanti Ipoteticamente Tra Gli 8 E 9 Mesi Quindi Chi vuole Un MacBook Pro Con Delle Caratteristiche Pro E Qualche Cosa Di Pro E Magari Lo stesso Schermo Con I Bordi Più Sottili Da Quando È Stato Lanciato Il Vecchio Modello Deve Aspettare Più di Un Anno E Mezzo Per Avere Lo stesso Trattamento E Onestamente Io Che Su Twitter Ho Fatto Scherzosamente Con Alberto Qualche Qualche Battuta Qualche Scambio Di Battuta Dicendo L'iPad L'anno Prossimo Prende Un Modello Più Grande Poi Ovviamente Da Amante Di iPad Se Uscisse Solamente Il Modello Più Grande E In Qualche Modo Andranno A tagliare Le gambe Al modello Più Piccolo Probabilmente Prenderei L'iPad Grande Però Ragazzi Io Propenderei Ad avere Tutto Piccolo Perché Comunque Se Apple Mi sta Anche Facendo Capire Che Nello Stesso Corpo Del 5 8 Posso Mettere Un Display Da 6 Pollice 1 E Comunque 0 3 Pollici Ho Fatto Un Confronto Con L'iPhone XR Di Un Amico E È Comunque Abbastanza Apple Potrebbe Addirittura Fare Una Mossa Del Genere Sugli Ipad Quindi Sull'iPad Pro Da 11 Pollici Potrebbe Andare A Tagliare Un Pochino Le Cornici E Magari Andare A Mettere Nello Stesso Corpo Anche Ovviamente Per Preservare Quello Che In Sostanza È L' Ecosistema Ipad Quindi La Magic Keyboard Che Alla Fine Ragazzi È Uscita Ad Aprile Di Quest' Anno Quindi Se Apple Dovesse Rilasciare Un Secondo Ipad Pro Nel Giro Di Un Anno Magari Dobbiamo Ricambiare Tutte Le Magic Keyboard Per I Pochi Pazzi Che Prenderanno Due Ipad Nel Giro Di Un Anno Poi Onestamente Sono Bramoso Lo Ammetto È Un Mio Vizio Di Voler Vedere A Tutti I Costi Questo Benedetto Miniled Cambierei Due Modelli In Un Anno Anche Perché Se Apple Dovesse Mettere Due Modelli In Un Anno Io Mi Aspetto Che Comunque Di Anche Delle Funzioni Esclusive Tipo Metto Più Giga Di Ram Metto I software Professionali È Una Cosa Che Onestamente Mi Renderebbe Pro Un Ipad Pro E Quindi Andando Poi A Riallacciarmi Con L'argomento Base Della Puntata Quei Dispositivi In Questo Caso Sì Che Mi Fanno Fare Qualcosa Di Pro E Mi Fanno Distaccare Appunto Questo Ipad Pro Dall' Ipad Normale Così Come Ovviamente Un Mac Pro Un i Mac Pro Ma Anche È Semplicemente Questo Quello Che Rende Pro La Gamma Pro Di Apple Nuove Tecnologie Accessibili Prima Di Tutto Abbiamo Visto Per E E Apple Watch Pro Quindi Il Serie 6 Per E E E La Possibilità Di Andare A Monitorare L'ossigenazione Nel Sangue Ne Ha Parlato Proprio Alberto Nell'ultima Puntata Di Una Mela Al Giorno Che Ripartito Vi Lascio Poi Il Link Nelle note Dell'episodio Andatelo A Andatelo Ad Ascoltare E Comunque In Un Modo Nell'altro È Venuto Fuori Che Questa Funzione Non È Essenziale Però Comunque Anzi Funziona Anche Parecchio Malino Almeno Nei Primi Test Che La Gente Ha Fatto Tutto Questo In Qualche Modo Poi Magari In Un Apple Watch SE 2 Sarà Alla Base Lo Per esempio Sugli iPhone Normali Quest'anno Avremo I display Con Si ipotizzava Il promotion Probabilmente Non ci sarà Però Avremo La profondità Colore Di 10 Bit L'OLED Arriva Anche Sugli iPhone 12 Standard Il Nuovo Design Per me Era un Capitolo A parte Però È un Discorso Che Abbiamo Fatto Sui Tablet Sugli iPad Probabilmente Lo faremo Anche Per quanto Riguarda I Mac Con Per esempio Il mondo Del redesign Che dovrebbe Andare A In qualche modo A capitalizzarsi Nel 2021 Quindi C'è Il mondo Dei MacBook Pro Che Punto Lo dicevo Prima Durante La WWDC Dovrebbe Ricevere Non solo Un redesign Ma anche Il Face ID Anche La possibilità Di avere Il display Mini LED Per cui Comunque Nuove Tecnologie Che arrivano E poi C'è Comunque Da considerare Il discorso Ne Parlavo In apertura Di Quello Che adesso È un potere Che Apple Può Avere Perché È vero Prima Intel Produceva I chip Per Apple In qualche Modo Accordandosi Con Apple Però Adesso Il processore Lo fa Proprio Apple Per cui Se Uscisse Un solo Modello Andando poi A Paragonare I Mac Al resto Della gamma Quindi Non so La 14 È lo standard La 14x È per iPad La 14z È per i Mac Con I Mac Mini Downclockati Con i Macbook Downclockati E La possibilità Anche poi Grazie Per esempio A Alle ventole Avere Un processore Unico Magari Due Categorie Una Per i prodotti Non pro L'altra Per i prodotti Pro Da parte Di Apple Che però In un modo Nell'altro Andando a progettare Software e hardware Insieme È una potenza Che Solo Apple Riesce Riesce Ad avere Perché va bene Tra Un paio D'ore Avremo L'evento Di Google Ne parleremo Poi Con calma Settimana Scorsa Però Paragoniamo Il successo Dei Pixel A successo Degli iPhone Non c'è Addirittura Google Che fa il software E fa l'hardware Prende I processori Da Qualcomm E non mette Nemmeno Il top Di gamma Perché metterà Il 765 A quanto Dicono i rumor Però In un modo Nell'altro Andare A Approfondire Un mercato In cui Il segmento Pro Deve ritornare Secondo me Ad avere Centralità Perché Alla fine Punto Apple Non è un ONG Apple Guadagna È la prima azienda Da 2000 Miliardi Di dollari Di valore Poi Lasciamo perdere Le trimestrali Eccetera Eccetera Questo In un modo Nell'altro È il segmento Più Se vogliamo Che frutta Di più All'Apple E quindi È il segmento A cui puntare Su cui puntare Perché L'iPad Pro Adesso Ha poco senso Con L'iPad Air Che è appena uscito Che addirittura Va In qualche modo A pareggiare I conti Per quanto riguarda I benchmark Ad un prezzo Rettamente inferiore E non abbiamo ancora Visto le offerte Perché Adesso Costa 650 euro Ma Quando poi Il segmento In mezzo Quindi il segmento Per tutti Viene colpito Dal mondo Delle offerte Quindi un iPhone A 699 A 659 E un iPad Che costa 669 euro Magari A 599 A 549 A 499 Ragazzi Poi non ce n'è più Perché innanzitutto Questi Sono In qualche modo Segmenti Che Solo Apple Riesce Ad avere E questi Devono essere Secondo me I segmenti 3 linee Di prodotte Massimo Per ogni categoria Quindi Vi arresto L'iPhone Dell'anno prima Non esiste più Perché l'iPhone Dell'anno prima Non ha più senso Perché C'è l'iPhone SE Che è quello Magari per 2 3 4 5 anni Poi c'è l'iPhone Intermedio E c'è l'iPhone Top di gamma L'iPad uguale C'è l'iPad base L'iPad Air E gli iPad Pro Io li chiamerei iPad SE iPad e iPad Pro I computer Mac Book Mac Book Pro Mac Mini Mac Pro Anzi Mac e Mac Pro iMac iMac Pro Cioè questa Deve essere la sostanza Deve in qualche modo Ritornare Steve Jobs Con la sua mentalità Non dico La croce Con Le varie Posizioni Con i prodotti Specifici Per ogni target Però comunque Una pulizia Che in qualche modo Entra Nella mente Non di noi appassionati Perché se io parlo A qualsiasi persona Di quello che può essere Il dispositivo per lui E una persona che comunque Ha Molto Comunque Interesse A questo mondo Che Che alla fine Poi racconto Ogni settimana Qui Qui sul podcast È un qualcosa Che ci sa Io Veramente Vorrei Avere La possibilità Di Dire A una persona Prendi L'iPad SE E quando io dico SE A quella persona Associa comunque Il dispositivo Con molta Comunque Possibilità Ma D'altra parte In cambio Mi Fa in qualche modo Capire Due lettere Mi fanno capire Che Il prezzo È decisamente Accessibile Ripeto Tutto questo Al netto Delle offerte Perché Quando un iPad Di ottava generazione Con il processore A 12 Mi va giù Da 389 euro A 299 euro E lo vedremo Magari Durante il Prime Day Del 13-14 Di ottobre Ragazzi Quello È l'iPad Da comprare Per tutti È una cosa Che io ho fatto Un anno fa Ho fatto A Natale Del 2020 2019 È un qualcosa Di figo E mi piacerebbe Veramente Che Apple Riuscisse A A segmentare Bene Tutto questo Per poi Avere Più pulizia A me Serve La pulizia Di questa Lineup Confusa Ogni volta Che vado Sul sito Apple E diciamo Che magari Di Apple Io Ne capisco Abbastanza Vorrei 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 avere Più 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 Linearità Cioè Vorrei Che Clicco Su una categoria E ho Dei prodotti Con Proiettata Poi L'immagine Del target Che quel prodotto Riesce a darmi In realtà Poi Bisogna Vedere Come Come Siamo Vivere La situazione Ed è Bello Poter Fare Questa Puntata In un Anno In cui Il Tutto In un Modo Nell'altro Messo A Metà Perché Da una Parte Abbiamo Quello Che Apple Riesce A Garantire Però Dall'altra Parte Abbiamo Bisogno Comunque Di più Chiarezza Perché Apple Garantisce Comunque Degli ottimi Prodotti Una Persona Può Prendere Un iPhone SE Può Prendere Un Dispositivo Più Costoso Però Caschi Sempre In piedi Però Ci deve Essere Più Settorialità E quindi Cercare Di Garantire Veramente Una certa Pulizia Che è quello Che è quello Che secondo me Serve E ripeto Due settimane fa Abbiamo visto un evento Tra due settimane Ne vedremo un altro Probabilmente A novembre Ne avremo un altro Ancora E poi Tutto questo Vabbè A parte In questo 2020 In cui non si capisce Nulla Puoi portare Anche Apple Ad avere Tutto più Più fluido A marzo Mi fai Uno special event In cui mi parli Dei servizi Abbiamo visto Il mese scorso Quanto C'è questo mese Due settimane fa Penso già che sia Ottobre Perché voglio vedere Finalmente i nuovi iPhone In questo mese Due settimane fa Abbiamo visto Addirittura Il bundle E un nuovo servizio Mi fai Un evento Anche solo online Tanto Apple Abbiamo visto Che li sa fare Dove mi metti dentro La qualunque Quindi mi metti dentro I trailer Mi metti dentro Le nuove pubblicazioni Mi metti La possibilità Di avere Gli sviluppatori Dei giochi Apple Arcade Sul palco La possibilità Magari di lanciare Hardware Legato Ai prodotti Un'Apple TV 4K Presentamela a marzo Gli Airpods 3 Presentamela a marzo L'Airpods Studio Presentamela a marzo Quando Non queste Le prossime Quando Mi dici Che Il flag È incluso Di Apple Music O un pod Uguale Poi A giugno Tutto il software E A settembre Tutto l'hardware E questo Secondo me Sarebbe Una grandissima Cosa E Chissà che magari Apple Riuscirà A tranquillizzarci Riuscirà In un modo Nell'altro A farci vedere Le cose Come Magari Anche Steve Li voleva E quindi Ragazzi Direi che la puntata Di oggi Può finire qui Ringrazio Alberto Ringrazio Giuliano Che mi hanno fatto Compagnia In diretta In chat Ringrazio Tutte le persone Che mi hanno Fatto Compagnia Durante la settimana Su Twitter Sono venute fuori Anche delle Belle discussioni Soprattutto Per la questione Ripeto Del Max Del Pro Max Che sarà Più pro Del pro È un qualcosa Su cui Batterò Un pochino Il Chiodo Finché A caldo Anzi Lo farò Addirittura Prima che Il chiodo Venga fuori Perché Appunto Vorrei Vorrei Parlarne anche Con Alberto Perché Alberto È della mia Esatta Sponda opposta Io sono Team Piccolo Lui è Team Grosso E quindi Poi Vedremo Tutto quello Che combinerà Per cui L'appuntamento È per Lunedì Con Anipad Guy Si parla Finalmente Di Settimana Prossima Per Parlare Di Google Dell'evento Di Google Di Questa Sera Ovviamente Aspettando Poi L'evento Apple Che a Questo Punto Magari A breve Verrà Finalmente Svelato Con La data Il Claim Il logo E quindi Poi Chissà Quante Speculazioni Dietro Logo Ci Saranno Noi Ci sentiamo In giro Ci sentiamo Su Internet Ci sentiamo Qui Mercoledì Prossimo Alle 17 Perché Io e te Ovviamente Continuo Ciao